La tortura è un sequestro di persona, del corpo di una persona per abusarne. È molto diverso dal semplice reato di lesioni col quale ti do un pugno o uno schiaffo con cui facciamo una rissa. È detenere un corpo e poterne approfittare. Peggio ancora se chi compie questa azione è uno con una divisa, che ha una pubblica autorità, che dovrebbe essere il pubblico custode della integrità e dell'oncolumità di una persona sotto arresto. Per me somiglia alla pedofilia di un sacerdote al quale vengono affidate delle vite e lui ne approfitta. È la stessa cosa per me, per uno che ha la divisa alla quale è affidata una vita e lui ne abusa, ne approfitta. Dunque bisogna introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura, perché nessuno si senta autorizzato a commettere questo crimine.